La Sicilia piomba verso il fondo della classifica dei cittadini laureati. Il dato relativo al 2017 pubblicato dalla Banca Dati della Commissione Europea certifica tutte le difficoltà in una terra che fa enorme fatica a uscire dal sottosviluppo. Anche perché una buona parte dei propri figli preferisce oltrepassare lo stretto dopo aver conquistato la pergameno, addirittura emigra subito dopo il diploma di maturità, continuando gli studi al nord o all'estero. E sono gli uomini a far precipitare le performance dell'isola. Le donne contribuiscono ad evitare la debacle in una maglia nera che va al di là del puro significato statistico al sapore di una condanna dell'emarginazione che la Sicilia ad inizio ottocento non immaginava neppure. I dati della popolazione di età compresa, fra i 25 e i 64 anni in possesso di una laurea pubblicata da Eurostart, vedono arretrare ancora la Sicilia tra le oltre 450 regioni e macro-regioni d'Europa. Nel 2012, con il 13% di laureati, la Sicilia occupava la 427esima posizione su 462. Nel 2017 siamo scesi al 448esimo posto, raggranellando un misero 13,6%. Per avere un'idea dei risultati dei nostri più diretti competitor, basta citare i dati della Sardegna, con il 17,3% di cittadini in possesso del titolo accademico e dell'Italia a quota 18,7%, della Lombardia che vanta un 20,2% e del Lazio che sfiora il 25%. Fuori confine dati lievitano, in cima alla classifica si piazza la zona est di Londra, con il 71,7% di laureati, e la regione dove si trova Parigi si colloca a ridosso del 48%. Ma è tra i cittadini di sesso maschile che la Sicilia è in caduta libera, con l'11,8% fa addirittura peggio del 2012, quando la percentuale raggingeva il 12%, piazzandosi a soli due posti dal fondo dell'elenco europeo. Al momento nel vecchio continente fanno peggio degli uomini siculi soltanto quelli di due regioni della Romania. Le donne siciliane provano invece a tenere alto l'onore dell'isola. La percentuale di laureate residenti in Sicilia nel 2017 è pari al 15,3%, tre punti e mezzo in più dei maschi. E tra il 2012 e il 2017 la percentuale di studenti residenti nell'isola che preferisce studiare in un ateneo al di fuori della regione di nascita, restando poi sul posto per lavorare, è passata dal 19 al 28%.